religioso io no assolutamente no grazie detesto tutte le religioni prima di tutto la nostra cominciato ad odiare la Ratzinger già da quando nei primi anni novanta diceva che era giusto discriminare gli omosessuali lei la falsa ipocrita lei è la cardinale a ruina ma da sono perfettamente d'accordo sui pax ma che c'è bisogno di spiegarlo sveglia bamboli è il minimo dovuto per una società civile in fondo paghiamo le tasse anche noi come tutti no e allora paghiamo anche le tasse per le scuole dei loro figli per le loro maternità per le loro pensioni di reversibilità e allora perché non dovremmo avere gli stessi diritti ma chi li toglie nulla ma si tenessero anche il loro santo matrimonio e il loro concetto di sacra famiglia ma chi gliela tocca noi chiediamo solamente di non dover continuare a vivere in questa dittatura cattolica che definirla terzomondista è un'offesa per i paesi civili del terzo mondo esigiamo rispetto dico ma è così difficile da capire è così difficile da concepire una società fatta basata sul rispetto della persona e dell'essere umano antichi almeno quanto i nostri politici questi elementi che ci governano sono rimasti indietro almeno di trent'anni rispetto al resto del paese di trent'anni rispetto al resto del paese